buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale io sono titti oggi sono qui per un video dedicato agli ultimi acquisti fatti da kiko da kiko recentemente c'è stata una promozione acquistando tre prodotti a prezzo pieno altri tre sarebbero stati gratuiti e sarebbero state gratuite anche le spese di spedizione per cui ho deciso di approfittarne di acquistare dei prodotti labbra dei rossetti chi mi segue sa che mi trovo abbastanza bene con quasi tutti i prodotti labbra di kiko e quindi ne ho approfittato li ho già provati vi posso dare le mie primissime proprio primissime impressioni come sempre però prima di iniziare del benvenuto ringrazio nuovi iscritti ringrazio sempre tutti voi vecchi iscritti che mi seguite mi supportate con costanza e con fiducia passiamo subito ai prodotti il primo che vi mostro il numero 02 della collezione natalizia di kiko sto parlando della joyful holiday e questa è la linea matt desire lipstick ovviamente bellissimo il pec ormai li conosciamo tutti i pec di questa collezione molto eleganti sia quello esterno che quello interno questi rossetti promettono di essere vellutati e di avere una tenuta fino a sei ore questo è il pec molto molto elegante il pec interno peccato che non abbia una chiusura a calamita e sia a incastro e adesso vi mostro il bullet molto elegante c'è anche la stellina sopra intarsiata molto molto bello andiamo a fare lo swatch questo dicevo il 02 del rosa molto particolare una tipologia di pro di colore che io amo soprattutto nel periodo autunnale invernale io l'ho già provato questo rossetto devo dire che posso confermare quello che promette perché ha una texture idratante cremosa e a lunga tenuta veramente nelle ore rimane e no transfer una volta fissato e no transfer e posso dire che anche se mangiate o bevete comunque rimane sulle labbra chiaramente non bello come quando lo applicate però non va via quindi sicuramente è un prodotto che vi consiglio di provare e può essere anche una bellissima idea regalo perché è veramente un pec molto molto elegante e il prezzo ammonta 11 euro e 99 secondo me è un buon rapporto qualità prezzo della stessa linea ho voluto prendere anche il numero 04 anche lui è un rosa però non so se possa notarsi con la luce artificiale un pochino più scuro dell'altro ecco qui lui è il bullet e andiamo a fare lo swatch lo metto a fianco in modo tale che possiate vedere la differenza non so se si possa notare con la luce naturale ovviamente anche oggi brutto tempo quindi non si vedeva nulla e ho dovuto ricorrere a luce artificiale lui è il numero 04 poi ho voluto provare dei prodotti dei rossetti di quelli proposti in linea permanente della new unlimited sto parlando di questi sono dei rossetti in stilo e io ne ho presi 3 il primo è il numero 17 questi rossetti sono stati proposti in 24 colori molto belli c'è l'imbarazzo della scelta promettono di essere cremosi a lunga tenuta di durare fino a 10 ore di essere no transfer di avere una texture ricca e cremosa ovviamente matt e di essere confortevoli e modulabili questo è il pack slim quindi molto compatto si può tranquillamente portare in borsa per qualche ritocco a scatto anche il il pack è il quantitativo di prodotto qui è di 1,5 grammi mentre nell'altro di 4,5 questo è il colore 17 cherry red un bel color cherry molto molto bello adatto anche alle feste secondo me ecco amo in autunno e in inverno anche questi colori all'ilà dei soliti nude che adoro e devo dire che ho provato anche questo e mantiene le promesse che fa è confortevole e cremoso e modulabile è un colore pieno dura veramente tante ore anche questo come l'altro una volta che si è fissato rimane rimane anche se mangiate bevete ovviamente come l'altro non rimane come quando lo avete applicato però vi posso garantire che è un ottimo prodotto anche lui secondo me ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché viene a costare 9 euro e 99 passiamo all'altro colore che il numero 21 ed è l'intense magenta ed è questo quindi un color magenta andiamo a fare lo swatch anche questo è il pack andiamo a fare lo swatch accanto così possiamo avere anche una differenza tra colori non so se si possa vedere ma penso che renda abbastanza bene il colore anche lui molto cremoso si rende proprio il comfort nel momento in cui lo andate applicare anche sulla mano sono dei prodotti anche questi che mi stanno dando delle belle impressioni positive sicuramente vi consiglio di provare anche questa può essere una valida idea per un pensierino anche perché veramente ci sono tanti colori bellissimi la cosa importante se è ordinato online non sbagliare il colore questo può succedere ed è successo anche a me me lo sarei dovuto aspettare infatti adesso vi faccio vedere l'ultimo prodotto che ho acquistato ho acquistato un altro perché ne ho acquistato uno prima di matt liquid lipstick della blumi vi mostro questo che è quello che vi ho mostrato in precedenza che il numero 03 rossetto liquido un bel nude promette di essere a lunga durata di durare fino a dieci ore di essere no transfer di avere una texture cremosa un finish matt coprente il finish matt coprente sicuramente cremoso idratante molto molto confortevole motivo per cui ho voluto a prenderne un altro a questo applicatore è floccato che permette di applicarlo in maniera omogenea e io ho voluto prendere un altro perché a me è piaciuto ho sentito diverse recensioni su questo prodotto alcune positive altre negative vi devo dire non è un rossetto che dura tantissimo nelle ore si fissa abbastanza bene ma non dura tantissimo quindi secondo me rappresenta un compromesso tra un rossetto quindi cremoso confortevole idratante è una tinta labbra quindi dura meno di una tinta ma dura più di rossetto quindi lo consiglio a chi cerca questa tipologia di prodotto l'altro colore che ho preso che ho ordinato adesso e qui avrei dovuto capirlo già dal nome è lo 07 red attitude allora lui questi costano anche il 9 euro e 99 quindi lo stesso prezzo dell'altro sono 4,5 ml e adesso vi mostro il colore che non so se e quando userò però ve lo mostro perché comunque è un bel colore e lui questo è l'applicatore e questo è il colore un bel rosso deciso natalizio come potete vedere pieno è il tipo di rosso che io non amo indossare cioè non è che non mi piace però è un rosso col cui con cui non mi trovo a mio agio chi mi segue sa benissimo che ho questo problema con il rosso però è veramente molto molto bello non so che cosa ne farò magari lo indosserò in qualche giorno di festa vedremo perché tutto può capitare ecco molto molto bello lui è lo 07 red attitude mentre quello che vi ho mostrato prima era lo 03 un bel nude chiaramente andando a ordinare online non sempre sia la giusta visione del colore però me lo sarei dovuto aspettare visto il nome e questi erano i colori che ho acquistato tranne quello che vi ho voluto mostrare nuovamente fatemi sapere qual è il colore che vi è piaciuto di più se anche voi avete approfittato di questa offerta se avete acquistato qualcosa e cosa mi consigliate se vi fa piacere scrivetelo giù nei commenti io vi ringrazio per la visione del video vi aspetto al mio prossimo video se vi fa piacere un bacione da tutti ciao